Vediamo alcuni attributi per poter gestire le tabelle. Per primo vediamo l'attributo WIDED che serve per dare la larghezza a una tabella. Quindi WIDED uguale, facciamo un esempio, mettiamo 400 pixel. Andiamo a salvare e apriamo la pagina che contiene la nostra tabella e vediamo che la larghezza della tabella è aumentata a 400. A questo punto è anche possibile stabilire l'altezza con l'attributo HEIGHT. Mettiamo esempio uguale a 200. Per allineare invece il testo all'interno delle righe o delle singole celle è possibile utilizzare altri attributi tipo ALIGN che serve per allineare il contenuto in un determinato modo. Esempio, voglio allineare il contenuto della mia prima riga al centro con ALIGN uguale CENTER. Vado a salvare e a verificare l'esempio. Vediamo che abbiamo allineato al centro il contenuto della nostra tabella. Vediamo anche che la tabella si è allargata perché abbiamo applicato un HEIGHT uguale a 200. Aggiungiamo e a questo punto possiamo continuare applicando anche un colore di sfondo alla prima riga con bgcolor uguale. Mettiamo il nostro codice ESA decimale e andiamo a provare se tutto funziona. Quindi bgcolor uguale codice del colore. Aprendo la pagina web vediamo l'applicazione del colore rosso alla prima riga. E' anche molto comodo utilizzare la larghezza o l'altezza delle tabelle in percentuali per poter adattare al contenuto. Quindi se scriviamo il posto di 400, ad esempio 75%, vediamo che la larghezza si adatta al 75% della larghezza della finestra del browser. Quindi andiamo a provare, vediamo che aumentando o diminuendo la larghezza del browser, automaticamente la nostra tabella assume una larghezza del 75% della finestra. Ci sono tanti altri attributi per le tabelle che elencheremo e utilizzeremo in effetti per poter eseguire esempi pratici e acquisire maggiore dimistichezza con l'uso del linguaggio HTML per poter realizzare siti web o intervenire efficacemente su codice.